La sfida del PNRR, i cambiamenti climatici che segnano il territorio, la burocrazia che frena i progetti, sono i sindaci, il front office dei cittadini, le figure che incarnano il ruolo di collegamento tra la gente e lo Stato, un compito non facile che da 50 anni Anci Veneto, nata nel maggio del 1973, cerca di alleggerire sostenendo i primi cittadini nelle loro attività. La burocrazia è ancora un elemento molto negativo di questo paese che rallenta i processi, che molte volte crea delle situazioni che sono assolutamente inspiegabili agli occhi dei cittadini, ma i sindaci sono sempre in prima linea a spiegare che una rotonda non è stata fatta perché manca l'autorizzazione, che un canale non è stato messo in sicurezza perché manca l'altra autorizzazione, che i fondi non arrivano perché mancano dei modelli. Insomma, non vorrei che sembrassero delle giustificazioni per i sindaci. I sindaci subiscono la burocrazia e sono coloro che invece vorrebbero accelerare le tempistiche. Oggi su 562 comuni veneti, 499 sono iscritti ad Anci. Guardando al futuro, le sfide sono quelle di garantire sicurezza al territorio, mettendoli in salvo da possibili eventi devastanti come quello in Emilia. Riuscire a fare sinergia al di là del colore politico a livello istituzionale, dallo Stato fino ad arrivare ai comuni per riuscire a trovare le soluzioni migliori. E poi ci sono i fondi del PNRR, una sfida non facile soprattutto per i piccoli comuni che non riescono da soli a gestire i bandi. Siamo super impegnati nell'attuazione del PNRR nel dare sostegno a tutti i comuni che ci hanno creduto e hanno concorso nonostante le difficoltà di personale. Questa è un po' la sfida. E' anche quella di far comprendere che la gestione dell'emergenza va programmata, servono fare programmazioni serie e portarle avanti con una semplificazione che non vuole bypassare le regole ma in qualche modo vuole far sì che per un'opera non ci vogliano quasi dieci anni come serve oggi, quelle di grossa dimensione. Se ci vengono dati i fondi noi siamo pronti ad investirli più che spenderli. Ricordo che proprio Anci Veneto era stata tra quelle Anci che in una prima fase dove c'era il timore di non riuscire a fare tempo ad investire avevamo chiesto di poter mettere in campo anche tutti quei progetti che erano finiti nelle graduatorie ma non erano stati finanziati.